Il Belgio si basa sulla direttiva europea che regola la libera circolazione dei lavoratori europei, secondo cui i cittadini non devono diventare un peso irragionevole per il sistema sociale del paese che li ospita. In tre anni il numero di europei espulsi è esploso, si è passati da 502 persone nel 2010 a 2712 persone nel 2013. Non siamo particolarmente severi, ma ragionevoli e rispettiamo la legislazione europea, spiega una funzionaria dell'Ufficio degli Stranieri. E quanto ai provenimenti che prendiamo, la legge ci dà ragione. Anche se c'è un numero maggiore di permessi di soggiorno respinti, penso che applichiamo in modo corretto e obiettivo la legislazione europea e nazionale. Non succede solo in Belgio. A livello europeo i rumeni sono i più espulsi, seguiti dai bulgari, dagli spagnoli e dagli italiani. Si ha il diritto di andare in un altro paese e di restare tre mesi senza obblighi, ma senza nemmeno beneficiare di aiuti sociali. Spiega una portavoce della Commissione. Si può restare fino a sei mesi se si prova che si sta cercando un'occupazione. Dopo non si può più restare se non si dimostra di potersi mantenere e di avere un'assicurazione sanitaria.